Allora, Francesco Greco, che idea si è fatto? C'è un salto di qualità e poi ancora, ecco, qual è il peso anche economico che questo tipo di criminalità, una criminalità economica ha sul sistema delle imprese? A fine aprile scadono i termini anche per lo scudo fiscale, si è discusso anche molto sul tipo di soldi che rientreranno in Italia, questi dati, che quadro ci permetteranno di avere? Buonasera, a volte uno, io mi chiedo ma di cosa stiamo parlando, perché sentendo le parole di Michele Vestipino, uno si rende conto che c'è una realtà che ai più è sconosciuta, ma che è una realtà impressionante perché non solo esiste ma condiziona la vita di tutti noi, non solo dei calabresi, no? E anche quando si parla di imprese, di economia, economia reale, economia finanziaria, io mi pongo la stessa domanda, no? Con lo scudo fiscale, ad oggi sono rientrati, negli ultimi dati conosciuti, circa 100 miliardi di euro, no? Che sono 200 mila miliardi di lire e tutti dicono che sono meno di un terzo dei capitali esportati in questi anni all'estero. E il discorso finisce lì, ma le domande invece cominciano lì. Primo, c'è stato un esodo biblico, come il popolo di Israele che attraversava il Mar Rosso, i capitali italiani in questi anni sono andati all'estero. Ma non poi all'estero inteso come investimenti in attività produttive di paesi, come dire, a capitalismo avanzato. No, sono stati depositati nei sistemi bancari offshore. Ma c'è stato un esodo biblico. Io ho fatto conto in questi anni, come dire, il vero problema dello scudo fiscale, di cui non si è discusso, no? È proprio questo, cioè si è fatto tanto parlare della questione etica, del fatto che in fondo lo Stato faceva concorrenza agli spalloni, tant'è che in un altro convegno io ho detto forse bisognerebbe segnalare questa cosa a Katil Kalalà che è il garante dell'antitrasse, perché in fondo i poveri spalloni svizzeri sono stati, come dire, ingiustamente, hanno subito ingiustamente la concorrenza sleale dello Stato italiano, perché il 5% è quanto chiedono gli spalloni, forse anche meno, no? E però questi sono, sì, i problemi di cui si può discutere, perché poi attengono anche, come dire, a cos'è l'etica di una società moderna e cose di questo genere. Però il vero problema è, se c'è stato quest'esodo biblico, vuol dire che l'economia reale delle imprese italiane e l'economia finanziaria sono marce, sono piene di fatti illeciti, perché questi soldi che sono andati all'estero, ma secondo voi da dove sono usciti? Cioè non è che c'è un campo di grano intesi come monete che viene arato e portato via, no, sono fondi neri, sono reati che vengono compiuti per poterli trasportare all'estero, sono al di là dei soldi dei piccoli evasori fiscali tipo i liberi professionisti e quant'altro che, come dire, la parte nera del loro guadagno la trasferivano all'estero, sono, e lo abbiamo visto in tantissime indagini, fondi sottratti alle società. Società che hanno denunciato meno utili e quindi ci hanno pagato meno tasse e hanno denunciato meno utili per cui poi sono andati a dire ai loro operai che quest'anno non è andata tanto bene, non ti possiamo aumentare lo stipendio. società che si sono riempite di fatture false, di contratti più strani, tutti illeciti per poter mascherare questo trasferimento di soldi e soldi che sono stati portati all'estero in parte, ma minima, dalle stesse persone o dai cosiddetti spalloni, ma in gran parte sono stati portati all'estero tramite i canali ufficiali del sistema finanziario, banche e diversi intermediari. Quindi noi abbiamo avuto e abbiamo la cosiddetta economia reale piena di queste schifezze, perché stiamo parlando di 3-400 miliardi di euro che sono una cifra impressionante, che se fossero state pagate le tasse su questi soldi ciascuno di noi avrebbe diritto a una settimana gratis alle Maldive tutti gli anni cioè voglio dire, oltre ad avere già ospedali belli, strade belle che so io, insomma, bei giardini e cose di questo genere. E un marcio che poi ha attraversato anche l'economia finanziaria perché l'economia finanziaria si è dedicata a curare questo esito biblico la cura dell'esito biblico di capitali, al mio paese si chiama riciclaggio. Ecco, a fronte di tutto questo, come dire, parafrasando la frase di un tecnico molto di moda che è Murigno abbiamo zero titoli, cioè zero processi, zero controlli. Questa è... perché tutta questa cosa non è stata controllata. Direi quasi che... non dico che è stata favorita, ma è stata quantomeno sopportata. Ora, cosa sta succedendo? Che come sempre succede, quando c'è una crisi economica tutto questo marcio emerge. Perché può essere gestito e governato finché l'economia tira quando l'economia va in crisi i margini di guadagno si riducono non si sa più come fare e l'Italia, come una solfatara vede l'emergere di scandali un po' dappertutto, no? e c'è di nuovo, per esempio, l'allarme corruzione. Però io vorrei ancora soffermarmi su questo punto dell'esito biblico che tra l'altro postola anche una seconda domanda ma da oggi in poi, cioè dopo lo scudo fiscale una economia drogata nel senso che è abituata a portare i soldi all'estero riesce a uscire dalla tossicodipendenza, da fondo nero? Io non lo so. Perché forse sarebbero necessarie delle riforme legislative e normative che introducessero delle norme poi ci arriverò alla fine un po' più serie su queste cose. Il problema però che secondo me deve allarmare è proprio il fatto che questa illegalità così diffusa e così grave attraversa tutte o gran parte delle società italiane. perché se noi vediamo che una società forse la prima, la seconda, la terza società italiana si mette a fare il cosiddetto la cosiddetta frode carosello che normalmente la faceva il rivenditore di auto straniere dell'Interland di Milano o il rivenditore di cellulari della periferia milanese se la metti a fare peraltro ovviamente con proporzioni grosse perché per un anno hanno fatto un traffico telefonico fittizio per un miliardo di euro se non ho letto male sui giornali che è una bella cifra vuol dire che il livello di illegalità ha raggiunto tutti dal rivenditore di cellulari di Rozzano scusate nome a caso fino a come dire del Ticinese dove abito io così non offendiamo nessuno non sempre sono la casalinga di Volera appunto fino alla cosiddetta società del salotto buono del capitalismo del capitalismo italiano ecco questo è un po' il quadro e questo è un quadro preoccupante perché voi dovete capire quanti reati si commettono per fare un fondo nero per proteggerlo per portare questi soldi all'essero per nasconderli in paradisi fiscali quanta gente diventa tua complice in un'operazione di questo tipo perché a volte come dire io mi ricordo i tempi di Manipulite cioè quello che emergeva era il gioco poi di ricatti che c'erano tra manager e proprietari delle società tutti depositari dei segreti riservati di queste società allora per portare i soldi all'estero io devo trovare un intermediario finanziario che mi procura i documenti falsi che mi possono giustificare questa uscita di denaro dalla mia società devo trovare il fiduciario svizzero che mi costituisce una società offshore e mi apre un conto bancario devo trovare il prestanomi che coprono questa società svizzera insomma a volte per portare un milione di euro devo trovare la complicità di una decina di persone tutte pronte anche a chiedermi qualcosa o a ricattare sempre che poi tra queste dieci persone non ci sia qualche affiliato dell'Andrank e cose di questo genere questo mondo moltiplicatelo per tutti i soldi che sono usciti per tutti i soggetti che hanno fatto queste cose e vedete che arriviamo a cifre impressionanti di numeri noi abbiamo avuto recentemente diversi processi a Milano in cui ci è capitato di come dire arrestare dei fiduciari svizzeri e per ognuno di cui anzi ce n'era uno che addirittura girava per il mondo tornava dai campi di golf delle Baleali se non sbaglio ed è stato fermato a Malpensa e girava col suo computer dentro il quale c'era tutta la memoria del suo ufficio di Lugano ma per cui noi per la prima volta forse siamo riusciti ad entrare tra virgolette nel mondo di un fiduciario e a vedere cosa facesse cosa impressionante cioè a parte i 150 mi pare imprenditori italiani che avevano portato tramite questo fiduciario i soldi all'estero c'era un sistema di società offshore che enorme che facevano fattura società italiane ma prima di allora secondo voi qualche ente di controllo dei traffici finanziari dato che per esempio da un piccolo paese dell'intera di Milano andassero a Madeira centinaia di milioni di euro che è un dato che dovrebbe emergere quasi automaticamente negli enti di controllo di queste cose no niente c'era se non mi ricordo quale paese dalle parti di Bussassizio una banca piccolina dalla Rade dove c'erano un sacco di conti bancari di società di Madeira che è un paradiso fiscale portoghese tra l'altro ecco una cosa che è divertente bisogna saperla l'Italia è forse l'unico paese in cui uno può aprire un conto intestato a una società offshore con firma un procuratore elvetico senza essere obbligato a dichiarare chi è il beneficiario economico del conto stesso cosa che nemmeno in Liechtenstein si può fare nemmeno in Liechtenstein perché all'estero le normative antiriciclaggio sono abbastanza come dire penetranti e hanno un buon livello di effettività e questo che una volta mi ha portato a dire che siamo un vero paese off show piuttosto che altri non solo perché abbiamo una fiscalità per chi non vuole pagare le tasse bassissima pari allo zero ma anche perché possiamo godere di coperture di questo tipo che in altri paesi anche come dire che hanno una cattiva fame che magari sono state inserite in qualche black list non si possono non si possono fare ecco quindi io vorrei che come primo punto si focalizzasse l'attenzione sul fatto che c'è un livello di illegalità economica che lo scudo fiscale ci dimostra come dire oggettivamente quindi non sono chiacchiere o parole altissimo questi soldi finiti all'estero e che tuttora stanno all'estero sono il frutto di reati quindi basta con sta storia poveri italiani che sono stati talmente tra virgolette massacrati dallo stato dalla tassazione dello stato italiano che sono stati costretti a portare i soldi all'estero ma scusate io sono un dipendente statale faccio un sacco di tazze non mi sono mai sentito costretto no non ho piacere a pagarle ma le pago perché so che poi ne ricavo servizi per tutti quanti noi ma voglio dire non gli era certo ordinato il medico a queste centinaia di migliaia di persone liberi professionisti manager imprenditori di fare quello che hanno fatto no quindi insomma andiamoci piano anche con queste cose bene il problema dell'evasione fiscale in Italia è un problema che mina la democrazia italiana o ci mettiamo in testa questo non andremo a nessuna parte perché guardate che l'evasione fiscale è la madre di tutte le illegalità che avvengono nel nostro paese ed è anche all'origine del sistema di corruzione diffusa che di cui si fa un gran parlare in questi giorni e che come dire chi è stato a fare questi processi negli ultimi trent'anni ha ben visto e ha ben considerato adesso siamo tutti pronti a lottare la corruzione ora o come dire si comincia a combattere l'evasione fiscale o non si va da nessuna parte tra l'altro è il sistema dell'evasione fiscale è uno dei sistemi delle cose che crea più danni alla collettività io a volte rifletto su questo nel senso che leggo sui giornali mi rendo conto dell'allarme sicurezza dell'allarme per i reati individuali però tendenzialmente bisogna fare questo ragionamento nella mia vita quante volte sono stato oggetto di rapina non essendo in Calabria voglio dire quindi non ho avuto problemi di pizzo o di attentati alla persona io non ho mai subito una rapina in vita mia qualche furto quando di autoradio negli anni settanta l'ho avuto prima che inventassero le autoradio attuali che non è inutile rubare questo è quanto ho subito negli anni settanta fecero una domanda alle casalinghe che uscivano da un supermercato di Genova chiedendo quale reato temessero di più e tutte risposero il sequestro di persone che era un reato che colpiva 40-50 persone in Italia ricche tra l'altro non a livello di quelle che uscivano dal supermercato di Genova ma questo è perché ormai erano convinti perché allora si parlava solo di questo non so se i più anziani se lo ricordano insomma quindi c'è una percezione della criminalità ma anche non è solo percezione perché sicuramente alcuni alcuni reati sono aumentati quello che però si deve capire è che se anche io nel l'arco della mia vita non subirò mai una rapina se sono fortunato sicuramente sto pagando io hanno già pagato i miei genitori e pagheranno i miei figli e sicuramente anche i nipoti i danni della criminalità economica allora io lo sto pagando perché oggi pago molte più tasse di quanto un normale funzionario dello Stato dovrebbe pagare un dipendente privato pubblico a reddito fisso perché lo Stato non si può permettere di abbassare le mie tasse anzi le prende solo a me perché c'è un livello di evasione fiscale impressionante in Italia questo è il primo punto ma quanti di voi sanno quanti punti di PIL si pagano ogni anno per gli interessi passivi sul debito pubblico esploso negli anni 80 quella che io chiamo la tassa di tangentopoli perché noi abbiamo cominciato gli anni 80 con un debito pubblico al 70% mi pare e l'abbiamo finito al 110% adesso siamo al 120% se non sbaglio e ogni anno per ogni finanziaria bisogna pagare gli interessi passivi su questo debito che sono praticamente i soldi che lo Stato ha chiesto alla collettività globale non solo italiana per finanziarsi con i BOT e i CCT sono 6-7 punti di PIL di interessi passivi ogni anno una cifra enorme e ciò nonostante lo sperpero dei soldi di quegli anni è impressionante perché oggi abbiamo sentito che stanno ancora ristrutturando finendo di costruire la Salerno Reggio Calabria da quanti anni ci sono i canteri mi pare 30 no? circa i soldi dell'esplosione del debito pubblico degli anni 80 a che cosa sono serviti a parte la bicocca che ho avuto modo di conoscere oggi per il primo le scuole fanno schifo no? cioè sono decadenti le strade sono quelle che sono solo da poco tempo abbiamo un'alta velocità come se fosse la soluzione di tutti i problemi del trasporto terrestre e ferroviario italiano gli aeroporti sono quelli che sono cioè che cosa ci hanno fatto con questi soldi? e dobbiamo andare a come dire intitolare piazze e strade alle persone che in quegli anni hanno creato questo debito pubblico ma dobbiamo insomma voglio dire noi ogni anno siamo privati di sette punti di pill per questa storia qui senza aver ottenuto in cambio nulla questo è il problema e questi sette punti di pill li stiamo pagando noi ogni anno li pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti perché qui stiamo parlando di operazioni e debiti che non riusciremo mai li possiamo solo ristrutturare come faceva la fama i debiti si ristrutturano non si riescono a estinguere questi debiti e con la crisi sono ancora aumentati e questa è la tassa di tangentopoli che è significata sperpe di denaro pubblico baby pensioni questo è stato l'Italia degli anni 80 poi ci sono state anche cose positive voglio dire non è che tutte cose negative però insomma che sia ben chiaro questo allora questa è criminalità economica la corruzione degli anni 80 che è emersa ed è stata conosciuta attraverso le indagini manipulite è stata un grande sperpero di denaro pubblico che noi oggi stiamo pagando l'evasione fiscale che da allora ad oggi caratterizza il funzionamento dello Stato italiano e che ha permesso questo enorme esodo biblico di capitali e ha creato danni alla collettività inimmaginabili che noi tutti stiamo pagando ma con questo elenco io potrei andare avanti per dieci giorni pensate per esempio ai danni ambientali pensate agli infortuni sul lavoro pensate a tutti i fenomeni di criminalità economica ad esempio la criminalità finanziaria ma voi pensate che questi benedetti o maledetti titoli tossici che hanno fatto saltare l'economia del mondo come dire sono cose lecite buone giuste e sante che solo per un accidente sono diventati tossici oppure non erano già tossici quando li hanno creati insomma i mutui subprime da cui è partita tutta la crisi economico finanziaria del 2008 erano sostanzialmente dei mutui che venivano fatti superiore al valore reale del bene allora cosa succedeva normalmente chi ha avuto modo di chiedere un mutuo in banca sa che normalmente si arriva al 60 70% del valore e la banca comunque dovrebbe anche valutare se quello è in grado di pagarle questi soldi invece negli Stati Uniti e poi piano piano in tutto il mondo cosa facevano ti davano il 110 il 120% del valore dell'immobile dicendo tanto oggi vale 100 domani vale 120 dopo domani vale 130 tu comunque hai fatto un grande affare ovviamente io prendo i soldi non so se riuscirò bene però il problema era che pigliavano questi questi crediti le banche non è che se li tenevano in pancia col rischio poi di avere l'insolvenza li mettevano in li univano ad altri crediti li impacchettavano tutti in veicoli che abbiamo conosciuto con il nome di conduit e li facevano girare nel mondo diventavano brave le banche capaci di trasferire il rischio di questi crediti nel più breve tempo possibile faccio un esempio che così potete capire voi pensate che le banche che hanno aiutato la Grecia ad avere questa enorme voragine si sono tenuti in pancia i loro crediti nei confronti della Grecia no li hanno sbattuti in tante realtà e se non sbaglio correggimi abbiamo parecchi titoli dei corporate bond greci dentro il sinking fund del comune di Milano che dovrebbe garantire il pagamento dei debiti del comune di Milano per cui se salta la Grecia rischia di saltare pure il comune di Milano ma non certo la banca che ha finanziato la Grecia ha preso questi crediti e li ha sbattuti nell'operazione che ha fatto col comune di Milano siamo a questi livelli e questa quando è crollata la Parmalat gli economisti hanno calcolato che abbiamo perso un punto e mezzo di PIL no? quel fatto era un fatto di enorme criminalità economica come poi abbiamo potuto constatare cioè bilanci falsi soldi distratti banche che se ne sono approfittate tutto questo mondo che poi è emerso con la vicenda Parmat fino al ragioniere che con lo scanner falsificava i conti delle banche e cose di questo genere ebbene quel fatto di criminalità economica è stato pagato da tutti i cittadini italiani e perché abbiamo pagato voi direte ma che c'entra un crack come quello della Parma con tutta la collettività in fondo chi ci ha smenato i soldi sono i poveri centomila risparmiatori no? perché il discredito che quel fatto ha provocato al sistema italiano ha comportato per un certo periodo un aumento del rischio Italia e questo aumento del rischio Italia ha comportato un maggior interesse sui bot e i cct per cui alla fine tutta la collettività si è dovuta assumere come dire il discredito che quel fatto di criminalità economica aveva aveva creato allora quello che concludendo volevo dire stiamoci attenti bisogna sviluppare una cultura e una sensibilizzazione sui danni a tutti noi e quindi alla collettività che la criminalità economica comporta noi siamo ormai a suoi fatti cioè noi non ci scandalizziamo del fatto che con lo scudo fiscale sono rientrati 100 miliardi di euro non ci scandalizziamo lo diamo per scontato ma non è così non ci scandalizziamo che si fanno i condoni fiscali i condoni edilizi per recuperare i soldi cioè è un modo per rimpinguare le casse dello Stato ma questo significa legittimare l'evasione fiscale l'abusivismo edilizio che caratterizza una parte consistente dell'Italia e per certi versi una parte consistente dell'economia reale e finanziaria così come dobbiamo scandalizzarci contro la corruzione cioè adesso io devo dirvi francamente che l'indice di percezione della corruzione è un indice che non mi convince fino in fondo ve lo dico anzi sarebbe interessante organizzare un dibattito di criminologi su questo perché mi ricorda tanto il discorso che ho fatto prima della casalinga che esce dal supermercato di Genova però e anche perché guardando questi indici io mi rendo conto che noi stiamo dopo la Bosvania ma non credo che sia paragonabile la realtà italiana con la realtà della Bosvania anche se lì producono tantissimi diamanti ma il vero problema è che ho visto ai primi posti paesi che da quello che emerge dalle nostre indagini sono molto più corruttori degli italiani ci sono alcuni grossi paesi europei che le cui imprese hanno corrotto il mondo molto più di quanto è riuscito a fare la grossa multinazionale italiana anzi le grandi multinazionali di alcuni paesi non è bello come dire indicarli ma avevano fondi neri che facevano impallidire i fondi neri seppur sostanziosi dell'Eni dell'epoca di Mani Pulite allora mi chiedono poi se e ho scoperto ma questo lo posso dimostrare attraverso l'indagio ci sono alcuni paesi europei che come dire hanno una capacità di corruzione nel mondo molto più alta dell'Italia io non sono un nazionalista tra l'altro però per esempio non posso dimenticare il fatto che fino al 2000 la Germania nel bilancio delle società tedesche si potevano inserire le tangenti pagate all'estero come costi di produzione cioè voglio dire come quella voce che ha citato Michele a proposito dei costi di sicurezza quindi su questa storia degli indici però che l'Italia sia un paese pieno di corrotti e corruttori mi sembra che sia un fatto abbastanza oggettivo oltretutto all'interno di questo decadimento etico dato da un'enorme illegalità diffusa abbiamo un ulteriore decadimento morale e direi anche estetico dovuto al fatto che si è passati dalle mazzette di mani pulite piuttosto sostanziose a pochi spiccioli accompagnati da regali di escort e cene e camerieri pagamento di camerieri cioè voglio dire io lo vedo come una parabola complessiva per cui dalla tangente Enimont di 200 miliardi di una volta siamo arrivati al pagamento della cameriera di un boiardo di stato cioè voglio dire è il segno dei tempi anche questo però che ci sia una diffusione è innegabile ebbene se noi andiamo a vedere tutte le convenzioni internazionali sulla lotta alla corruzione scopriremo che queste convenzioni non parlano di corruzione ma parlano di necessaria trasparenza contabile di necessaria trasparenza dei flussi finanziari e di enforcement cioè tutte le convenzioni che si dedicano al contrasto della lotta alla corruzione parlano di altro giustamente secondo me e cioè parlano del fatto che le società devono avere trasparenza contabile in modo da evitare la creazione di fondi neri che i flussi finanziari devono essere trasparenti e tracciabili e quindi un adeguato sistema di antiriciclaggio e infine ti dicono tutte che i reati i termini di prescrizione tutte queste cose che permettono poi di perseguire una condotta illecita devono essere adeguati bene vediamo quello che c'è in Italia da questo punto di vista e qui chiudo allora trasparenza contabile noi nel 2002 abbiamo sostanzialmente ucciso depenalizzato il falso in bilancio no? primo punto lo abbiamo reso a livello di contravvenzione statale tant'è che quando entrò in vigore la legge c'era la battuta in procura di affidare le indagini ai vigili urbani riciclaggio nel 2009 sono state segnalate 20.000 operazioni sospette all'ufficio di informazione finanziaria bene processi di riciclaggio se ne saranno stati 15 in tutta Italia e di questi 15 almeno 10 riguardano il cosiddetto taroccamento delle autovetture perché una grande invenzione dei giuristi italiani è stata quella di dire poiché il riciclaggio non lo possiamo applicare ai flussi finanziari per tutta una serie di motivi tecnici perché è una norma che è scritta coi piedi però la possiamo recuperare e applicare al carrozziere di Gaggiano che gli portano la macchina rubata gli cambia le targhe gli lima la matricola gli mette dei documenti nuovi quella l'abbiamo considerato riciclaggio se voi andate a fare una ricerca per chi ama queste cose della giurisprudenza della Cassazione vedrà che le uniche sentenze sul riciclaggio sono quelle dei poveri carrozzieri ma voi ve lo immaginate il legislatore del 1900 degli anni 80 quando ci fu la grande campagna contro il riciclaggio convegni su convegni qua c'era l'ONU che faceva convegni l'ISPA che hanno tutte queste cose qua che il problema era il carrozziere di Gaggiano cioè voglio dire è paradossale questo fatto l'abbiamo detto ridetto stradetto io sono andato a fare una ricerca per vedere quanti stati al mondo avessero un sistema normativo antiriciclaggio come l'Italia perché io andavo a fare l'erogatorio in Lichtenstein in Svizzera in Lussemburgo da tutte le parti del mondo e vedevo che avevano dei sistemi molto più moderni del nostro dal punto di vista normativo beh noi siamo noi la Cina e un altro paese siamo gli unici paesi al mondo a non avere la cosiddetta norma sull'autoriciclaggio cioè che penalizza la tecnica del trasferimento clandestino di soldi indipendentemente se ho fatto o meno il concorso nel reato presupposto non so se ci vorrà troppo tempo per spiegare ma sostanzialmente è una norma che noi tutti aspichiamo tra l'altro come dire la auspicano anche altre persone in Italia ho sentito ho letto qualcosa del genere su Draghi mi ricordo che lo stesso Tremonti l'aveva inserito in un disegno di legge sul risparmio quindi insomma voglio dire sta di fatto che questa è una norma che non passa mai cioè per ora non è passata quindi noi non abbiamo né un discorso di come dire penalizzazione della opacità contabile e non abbiamo nemmeno un caposaldo giuridico sul problema della trasparenza dei flussi finanziari evito di parlare del cosiddetto enforcement parola che piace molto agli studiosi cioè l'effettività la possibilità la capacità reale perché come dire da quando è scoppiata Mani Pulite io non ho visto una norma che abbia accelerato e facilitato il processo penale lo abbia reso più semplice e più veloce ho visto solo norme che lo hanno rallentato complicato reso impossibile e infine come dire le ultime che ricordo sono state delle norme che hanno decretato la parola fine perché questa legge Cirielli o disconosciuta dal suo autore tant'è che si chiama Ex Cirielli perché ha creato un sistema processuale per cui a fronte di norme che hanno rallentato il processo penale abbiamo una prescrizione non proporzionata ma rapidissima per cui vi faccio solo questo esempio per la corruzione il processo si prescrive in sette anni e mezzo tenete presente che la prescrizione facciamo un po' di lezione giuridica visto che siamo a giurisprudenza decorre dal momento del fatto non dal momento in cui io lo scopro per cui facciamo un esempio io scopro oggi nel 2010 che una grande società italiana ha corrotto un funzionario pubblico nel 2008 ecco mi sono già giocato due anni di prescrizione oggi capo il processo vabbè ce ne ho cinque davanti sì però devi fare un'arrogatoria internazionale per ricostruire il flusso finanziario di questi soldi mettiamo che i soldi partono dai fondi neri che la società aveva in Svizzera e finiscono a Singapore perché diciamo che negli ultimi dieci anni il sistema offshore più in voga è stato Singapore alcune banche svizzere hanno individuato in Singapore una buona tenuta del segreto bancario e hanno dirottato tutti i loro fondi ma sto parlando di grosse banche svizzere a Singapore tant'è che negli ultimi cinque anni tutti i nostri imputati banchieri amministratori dell'Ener e quant'altro avevano tutti portati i soldi da Singapore e lì seppur bloccati attraverso le nostre attività non siamo ancora riusciti ad averli indietro bene per fare un po' di queste erogatorie ci passano almeno due anni quindi due anni me li sono giocati con il fatto che l'ho scoperto ahimè due anni dopo ma può succedere che non lo scopro il giorno stesso in cui viene pagata la corruzione insomma ci sta no due anni me li gioco in erogatorie in altre cose poi c'è il deposito degli atti e si va si incominciano i processi oi che i processi quanti sono cioè l'udienza preliminare che è diventata almeno a Milano non so raggiungeremo una sorta di primo grado di processo durano una vita poi c'ho tre gradi quindi io c'ho praticamente due due tre anni e mezzo per fare quattro gradi di giudizio ma vi sembra che questo sia per usare questa bella parola un inforzamento adeguato no cioè è una presa in giro poi adesso ci vogliono fare pure il processo breve devo dire che a volte penso a questo e dico ma chi se ne frega a me piace sciare me ne andrò più spesso a sciare perché poi sono trent'anni che stiamo a lottare su ste cose da fine uno si potrebbe anche stancare ma noi invece siamo tignosi e stiamo lì ma devo dire che sta storia non esiste non esiste noi siamo l'unico paese al mondo che ha la prescrizione anche dopo l'esercizio di azione penale io posso capire che il legislatore mi dica guarda tu in due anni o mi scopri il fatto di fare in via giudizio oppure la chiudi lì ci può stare una cosa del genere ma non che una volta che io scoperto o individuo un possibile autore del fatto devo poi temere di non poter finire il processo e d'altra parte e chiudo qui noi abbiamo un sistema nel quale il legislatore sono anni ovviamente io non riesco a ricordarmi una norma che abbia accelerato il processo non so se non me la ricordo mi ricordo da Mani Pulite ad oggi sono state almeno 200 modifiche del codice procedura penale non me ne ricordo una che dice ah guarda guadagniamo un giorno con questa norma per cui c'è sempre questa lotta continua questa corsa continua diventa quasi angosciata e poi insomma c'è un problema serio in Italia che è come dire il il fatto che ci sono tanti avvocati Davigo non so chi l'ha sentito l'altra sera dava un po' di numeri alla trasmissione con la Dandina e parla con me e tra i più impressionanti sono che in Germania ci sono solo 44 avvocati abilitati a difendere in Cassazione in Italia sono 50.000 allora voi capite bene che se 50.000 avvocati devono come dire campare devono fare ricorsi in Cassazione voi sapete qual è la percentuale di rigetti di processi in Cassazione allora andiamo all'88% per quanto riguarda le dichiarazioni di inammissibilità che arrivano al 97% di rigetti allora qualcuno ha proposto di far pagare i ricorsi in Inghilterra per fare un ricorso uno deve accendere un mutuo in banca in Italia il come dire l'uso del diritto giusto di difesa è diventato un abuso allora se una cosa diventa un abuso bisogna farla pagare è stata una battaglia inutile questa qui c'è un bellissimo disegno di legge che era stato presentato scritto da Pier Camillo Davigo e quant'altro che non è mai passato morale noi abbiamo un sistema in cui si può ricorrere anche per il minimo starnuto e quindi i famosi sette anni e mezzo di cui si era parlato prima che ho già dimostrato che facendolo andare veloce non si riesce a fare un processo di corruzione figuriamoci poi con tutti i ricorsi possibili immaginabili anche interinali che ci sono nel processo penale ecco ultima cosa proprio per chiudere perché mi hanno molto toccato le parole su il ricordo di Guido Galli e a quale io accomuno anche Ambrosoli essendo che Ambrosoli era avvocato ma nel momento in cui è morto era un funzionario dello Stato di fatto un pubblico ufficiale direi meglio e cos'è che colpisce di queste due figure io Guido Galli l'ho conosciuto Ambrosoli no conosciuto il figlio che ha scritto un libro bellissimo che dovrebbe essere come dire utilizzato come libro di testo sia nelle scuole che nella università le accomuna secondo me una cosa fondamentale che la gelosia direi della propria autonomia ed indipendenza che è poi quella che caratterizza il corpo della magistratura io non sono un corporativista e penso che ci sono magistrati bravi magistrati cattivi magistrati che non hanno voglia di lavorare magistrati che lavorano tantissimo però la maggior parte dei magistrati riesce cerca di fare qualcosa ed è diventata gelosa della propria autonomia e indipendenza che non ha una valenza politica non ha una valenza politica è proprio dire io sono un funzionario dello Stato la Costituzione vuole che io sia autonomo e indipendente mi garantisce quindi da questo punto di vista e non guardo in faccia nessuno no cioè vado avanti e da questo punto di vista Ambrosoli e Galli erano due persone indipendenti due persone indipendenti autonome da cui bisognerebbe trarre esempio quello che sconvolge e qui chiudo è che si ha la sensazione e sentendo la realtà calabrese che poi anche direi in parte è anche lombardo per certi versi perché questi soldi di cui parlava Prestipino poi vengono investiti anche nell'economia reale con le caratteristiche che poi lui ha indicato dicevo si ha la sensazione che questo è un periodo in cui sia stata sdoganata la illegalità e bisogna a questo punto essere preoccupati ma soprattutto velocemente tornare indietro ma quale futuro può avere un paese in cui la illegalità diventa la regola e questo ragazzi è un problema che ci riguarda da vicino tutti quanti io ho i capelli bianchi mi avvio la pensione e così via ma come dire non è possibile che un paese è un paese che sdogana l'illegalità è un paese che non ha futuro mettiamocelo in testa questo e quindi da questo punto di vista figure come Ambrosoli e Galli dovrebbero essere come dire la guida morale di tutti noi perché hanno dimostrato che entrano nella storia e me purtroppo in maniera tragica proprio perché sono stati il simbolo di un desiderio di autonomia e indipendenza e non pensate che questo sia un problema solo dei funzionari pubblici perché l'autonomia e l'indipendenza deve essere il carattere il contenuto centrale della professionalità di qualsiasi mestiere perché come dire non è solo il funzionario pubblico deve essere autonomo e indipendente ma anche il manager privato quanti manager in Italia sono stati costretti a fare fondi neri perché glielo chiedeva la famiglia proprietaria della società che abbiamo questo capitalismo femministico no? questo è un po' il messaggio che ci lasciano queste due persone e invito veramente tutti a vedere la mostra che c'è al palazzo di giustizia di Milano su Guido Galli non è stata ricordata ma è bene che si sappia che c'è una mostra che è stata anche prorogata e a leggere questo bellissimo libro o quantomeno la lettera che Ambrosoli scrisse alla moglie che è un esempio uno dei più alti esempi di come dire di laicità e di morale che deve guidare una persona grazie 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 a tutti.